Dopo il grande successo dello scorso anno, Fiato e i Libri torna a Bergamo TV. Potrete assistere a tre spettacoli del festival la domenica sera, in prima serata, a partire dal 14 novembre. Ma forse non tutti sanno cosa sia Fiato e i Libri. Vediamolo insieme. Fiato e i Libri è un festival unico in Italia di sole e letture sceniche, che da 15 anni porta libri in giro per la provincia e li fa leggere a grandi attori in location suggestive, spesso con la musica dal vivo. Davanti ad un pubblico numeroso ed entusiasta, attori del calibro di Lella Costa, Umberto Orsini, Maddalena Crippa, Monio Vadia, hanno portato sul palco storie tratte dai libri più belli. Il libro della settimana è La vita davanti a sé, dello scrittore franco-lituano Romain Garry. Abbiamo affidato alla bravissima Arianna Scommegna la lettura di questo libro, per le sue capacità, per la sua bravura. Ricordiamo che Arianna ha recitato con registi come Checco Zalone, Silvio Soldini, Giuseppe Bertolucci. Vi posso dire che abitavamo al sesto piano senza accessore e che per Madame Rosa, con i suoi 95 chili. Il più grande amico che avevo a quel tempo era un ombrello di nome Arthur che ho vestito da capo a piedi. Gli avevo fatto la testa con uno straccio verde che ho arrotolato a palla attorno al manico e una faccia simpatica col sorriso, gli occhi rotondi, col rossetto di Madame Rosa. E come ti chiami? Mamà, ma ve l'ho già detto al circo. Mi ha spiegato che quella cosa era una sala di doppiaggio. Sapete? Beh, ci si può sbagliare. Un marmocchio di tre anni di identità non ne ha molta e quando si sta undici anni senza vedere il proprio figlio, beh, non bisogna meravigliarsi che diventi ebreo. Mi raccomando, ci vediamo domenica alle 21. Non mancate!